Lighting Design, dall'evoluzione delle tecnologie LED alla riedizione di grandi classici del passato fino alla reinterpretazione dei capolavori come i lampadari veneziani. È un piacere potervi presentare un po' le nostre creazioni. Siamo nel mondo del lusso con il tentativo di reinterpretare un prodotto classico offrendo degli spunti che la tecnologia oggi ci permette di applicare in un prodotto che deve andare ad arredare contesti decisamente esclusivi. Qui ciò che riusciamo ad ammirare oggi è un classico lampadario che riprende la tradizione veneziana solo con questa nuova attenzione a quelle che sono delle soluzioni illuminotecniche sempre più portate ad un risparmio energetico da una parte e dall'altra ad avere degli effetti scenici di illuminazione che ci permettono di amplificare e di mettere ancora più in risalto le caratteristiche della tradizione in questo caso vetraia. Il lusso è un lusso che cerca di avere sia un design ricercato ovviamente che si sviluppa su delle dimensioni importanti considerando quelli che sono gli ambienti che andrà ad illuminare quindi decisamente spazi molto ampi, persone con una possibilità di spesa importante che combina materiali ricercati qui parliamo di acciai, parliamo di argentature quindi non solo la classica verniciatura a bagno di cromo però qui stiamo veramente parlando di placature in argento stiamo parlando di cristalli al piombo quindi non solo vetro di vetreria quindi la tradizione sì muranese però reinterpretata con questa possibilità di materiali nuovi e ovviamente parliamo di cristallo, parliamo di cristallo Swarovski parliamo di una qualità a 360 gradi di un articolo che non voglia lasciare nulla al caso che non voglia lasciare nessun dettaglio non considerato per avere un effetto quanto più lussuoso possibile e quanto abbia più la possibilità di andare a soddisfare quelle che sono le richieste di una clientela soprattutto con capacità di spesa importanti che vuole avere il meglio di ciò che offre la tecnologia che offre la tecnologia che offre la tecnologia